Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme questa mattina, in primo Giovanni capitolo 5 verso 18, dice così Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Gloria sia resa al Signore, ti vogliamo benedire Signore. Chi è nato di nuovo non può peccare, non può persistere, voglio dire, perché la sua crocienza è stata sensibilizzata dallo Spirito Santo. Quando abbiamo un cuore di pietra, duro, non sentiamo niente. Quando siamo morti alle cose spirituali, possiamo mettere qualsiasi peso su un morto non sente niente. Quando siamo vivi, basta mettere cento grammi, già lo sentiamo. Così è quando siamo rinati dallo Spirito Santo. Non perché non pecchiamo più, ma non possiamo persistere, vuol dire non possiamo continuare, perché il piacere che troviamo in qualche peccato è molto inferiore al rimorso che ne abbiamo. E perciò vogliamo mollare la presa e dire via il peccato, ribellati al peccato nella tua vita. Perché Cristo, che ci ha rigenerati, ci protegge e Satana non ci tocca. Possiamo essere tentati, ma Satana non può oltrepassare i limiti che Dio gli permette. Satana con Dio è come il cane legato vicino alla masseria di un contadino, che arriva fin dove dice il padrone. Possiamo vedere questo, tu forse stai attraversando un momento particolare, ma stai tranquilla, stai tranquillo, che non può oltrepassare i limiti che Dio gli permette sulla tua vita, sulla tua casa, nella tua casa, dove tu ti muovi. Leggiamo insieme in Giobbe, capitolo 2, verso 5. Ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne, vedrai se non ti rinnega in faccia. L'accusatore dei fratelli, davanti a Dio, Satana diceva, mentre Dio diceva che Giobbe era fedele, lui lo accusava dicendo, accusava anche Dio dicendo che tu gli hai tolto i beni, ma non hai toccato la sua salute, prova a toccare la sua salute, vedrai se non ti rinnega. Nel verso 6 Dio gli dà un limite e dice, leggiamo, il Signore disse a Satana, nebbene, egli è in tuo potere, soltanto, mettici il verde sopra, rispetta la sua vita. Signore aiutaci questa mattina. Vedi, tu puoi trovarti nelle prove, puoi essere tentata, puoi essere tentato, ma Dio non permette che la tentazione superi la tua forza. In questo possiamo vedere che Satana può fare solo quello che Dio gli permette di fare. Gloria a Dio. Non ti scoraggiare, anche se sei in mezzo ad una prova oggi, il Signore ti sta dicendo per mezzo della sua parola che Satana non può oltrepassare i limiti che Dio permette. E se Satana non può oltrepassare i limiti che Dio permette, è facile proprio che la prova ti aiuta a restare più vicino al Signore. Perché quando abbiamo qualche prova, preghiamo di più, rivediamo un po' di più la nostra vita, cerchiamo di comprendere se c'è qualcosa che abbiamo fatto o non abbiamo fatto. Molte volte la prova ci aiuta ad un vero ritorno a Dio e grazie si hanno reso a Dio. Ci può tentare, accusare, ma Dio ci protegge e gli mette dei limiti che non può oltrepassare. Le tentazioni che può fare a noi sono comuni a tutti i credenti, a tutti gli esseri umani. Sono alla nostra portata, potremmo dire. Nessuna tentazione vi accolti che non sia stata umana. In tutta la fratellanza c'è questo sistema. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. che sono alla nostra portata, vuol dire. Che servono molte volte per formare il nostro carattere cristiano, come fece con Israele. Israele veniva fuori dall'idolatria e non riusciva ad imparare a camminare con Dio come Dio voleva. Dio lo provava, ma lui non si addestrava. Signore, aiutaci. Guardiamo questa triste storia dal verso 5 al verso 10 dello stesso capitolo. Dice così. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Leggiamo fino al verso 10. Ma della maggior parte di loro non si compiacque, non accertarono la disciplina divina. Infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. E perché non diventiate idolatri? Se sei un'idolata, sbarazzatene subito. Se sei un idolatro, sbarazzatene subito, come alcuni di loro. Secondo quando è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. e queste cose servono per noi per allinearci nel piano della volontà di Dio. Dio vuole il nostro bene, ma molte volte noi siamo come gli animali. Agiamo male nei riguardi di Dio. Anzi, in qualche parte della Bibbia il Signore dice che certi animali conoscono il padrone e lo riveriscono. Prendi un cane, per esempio. Molti animali sanno come si devono mettere al posto giusto quando vedono il padrone e molti credenti non lo fanno. Leggiamo un'altra volta questo verso. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Queste cose servono per noi. Leggiamo nel verso 11. Tutto ciò che è scritto ci aiuta a dire Signore non farci fare come hanno fatto loro. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Ma Lui ci dà sempre la via da venirne fuori. Questo è un cammino di fede. È giusto. Dobbiamo vivere per fede. Dobbiamo imparare. Cioè in quello che Dio è e non quello che facciamo noi. Noi dobbiamo seguire Dio. la nostra fede deve essere in Lui. E quando Lui ci dice anche se non vediamo dobbiamo ubbidire a Lui. Abbiamo degli esempi anche positivi nella parola del Signore. Guardiamo in mezzo a questo popolo che Dio descrive così disubbidiente. Ce ne sono anche di quelli che sono stati ubbidienti. Giosuè per esempio e Caleb avevano fede in Dio e il popolo voleva tornare in Egitto. Pensa tu dopo che avevano attraversato il Mar Rosso e per tanti anni Dio gli aveva dato da mangiare e da bere senza che facevano niente. I numeri capitolo 14 verso 4 cercavano un nuovo capo per tornare in Egitto. Essi dissero l'un l'altro nominiamoci un capo torniamo in Egitto. Mosè ed Aronne di fronte a questa moltitudine che cosa avrebbero potuto fare se non pregare? Nel verso 5 si misero a fare proprio questo. Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele. Non si inchinarono davanti a loro si inchinarono davanti a Dio per dire Signore dove sono le parole per convincere questa moltitudine per dire tutto quello che tu hai fatto fino in questo momento e questo popolo caparvio ci vuole escludere come capi per tornare in Egitto nella schiavitù come erano prima. leggiamo dal verso 6 a 8 molte volte siamo un po' così e Giosuè figlio di Nunne e Caleb figlio di Gefunne che erano tra quelli che avevano esplorato il paese e si stracciarono le vesti si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono molto buono se il Signore ci è favorevole ci farà entrare in quel paese e ce lo darà è un paese dove scorrono il latte e il miele loro c'erano stati sapevano che Dio aveva detto che glielo davano le loro mani e questo popolo voleva restare nel deserto ma sapeva che senza Dio non poteva restare nel deserto perché se Dio fermava di scendere la manna e allora che cosa sceglievano di tornare in Egitto quanti credenti tornano in Egitto ma non stanno meglio se tu sei una che sei tornata in Egitto vedrai che arriva il momento che ti pentirai anzi pentiti subito anche tu fratello perché in Egitto non si sta bene dove Satana governa non si sta mai bene ti promette tutto ma ti dà niente il Signore ha detto che ci farà entrare dicevano questi due il Signore ha detto che ci farà entrare questo tipo di fede la potevano avere anche loro perché avevano visto che il Signore le guidava perché si trovavano lì come erano arrivati lì avevano festeggiato la Pasqua avevano superato il Mar Rosso avevano visto il l'esercito di Faraone annientato nel Mar Rosso e nel verso 4 dicono leggiamo il verso 4 un'altra volta facciamoci dei capi nominiamoci un capo torniamo in Egitto che vergogna oh Signore aiutaci Signore aiutaci Signore aiutaci il Signore ha detto che ci farà entrare questo tipo di fede la potevano avere anche loro perché avevano visto che il Signore li guidava in primo Corinzi 10 13 dice così a noi nessuna tentazione vi accolti che non sia stata umana però Dio è fedele e non permetterà sorella fratello Dio è fedele non permetterà che tu sia tentato sia tentata oltre la tua forza ma con la tentazione se guardi bene ti dà sempre la via di uscita tu devi perseverare nella via che Lui ti mette davanti perché così puoi sopportare la prova Signore aiutaci questi due erano dalla parte di Dio pensavano come pensava Dio erano dalla parte di Mosè e di Aronne non cercavano altri capi rileggiamo numeri 14 5 e 6 dice così che sei grande Signore ti vogliamo benedire numeri 14 5 e 6 dice allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele e Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Gefun che erano tra quelli che avevano esplorato il paese si stracciarono le vesti cioè si stracciarono le vesti per dire era un simbolo per far capire agli altri che dovevano seguirli noi siamo seri come dire sei Signore con noi chi sarà contro di noi era questo il simbolo per dire cioè le parole erano leggere questo simbolo di stracciarsi i vestiti era come se dimostrare la serietà di quello che loro dicevano nel verso 8 leggiamo se Dio è per noi chi sarà contro di noi stavano dicendo noi dobbiamo ragionare allo stesso modo se il Signore ci è favorevole ci farà entrare in quel paese e ce lo darà è un paese dove scorrono il latte e il miele noi dobbiamo credere sa quante volte viene il nemico nella mia mente e mi dice con questo grande carrozzone voi siete quattro persone siete pochissimi che portate avanti questa grande barca da un momento all'altro farai un grosso fallimento da un momento all'altro resterai per strada da un momento all'altro non ce la farai più da un momento all'altro andrai a finire in un letto e chi porterà avanti quello che tu hai iniziato lui cerca sempre di confonderci e mettere pensieri malefici nella nostra mente ma noi sappiamo che il Signore è fedele Dio ha detto che finché noi perseveriamo nel mantenere la posizione che ci ha chiamati e ci consacriamo a Lui e perseveriamo nella preghiera nella dedicazione nella consacrazione ed amministriamo la parola del Signore in verità così come essa è noi possiamo proseguire perché Dio è fedele quando tu ti metti all'opera per fare qualcosa per l'opera del Signore trovi sempre mille difficoltà da tutti i lati ma la nostra fede non deve venire meno perché il Signore che ci ha creati ci ha ricreati ci ha chiamati e ci porta avanti e ci porta avanti sì sì non ci dobbiamo abbattere perché se no gli diamo ragione e restiamo dove siamo noi non vogliamo tornare in Egitto noi vogliamo entrare nella terra promessa non solo noi ma quanti più seguono questo canale quanti più seguono quello che stiamo facendo che è la verità di Dio che predichiamo desideriamo che noi tutti entriamo nella terra promessa questa volta non è Canaan questa volta è il cielo questa volta non è Joshua Josue che ci deve condurre questa volta è Gesù il figlio di Dio che ci porta con sé alleluia lui è venuto ci ha liberati lui è l'agnello che ha pagato lui ci ha fatto attraversare le acque e siamo qui ancora questa mattina insieme con te fortifichiamoci nel Signore Egli ci darà la sua forza la sua potenza nel verso 13 del capitolo che abbiamo letto di Corinzi dice che qualsiasi tentazione nessuna tentazione ci ha accolti che non sia stata umana però Dio è fedele e non permetterà che tu sia tentata oltre le tue forze ma con la tentazione ci darà anche la via di uscirne e la via di uscirne è ubbidire ancora senza tener conto che dice il diavolo ma fare quello che dice Dio affinché possiamo superarle dobbiamo essere saldi in quello che facciamo quando ci muoviamo con la fede in Cristo sappiamo che siamo da Dio e non siamo del mondo leggiamo in primo Giovanni capitolo 5 18 e 19 sei grande Signore ti benediciamo noi sappiamo che chi che che chiunque è nato da Dio non persiste nel pecare ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca il verso 19 dice così noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno e che siamo diversi di quelli che sono sotto il potere del maligno Satana domina sul sistema mondo e sulle menti dei suoi lo Spirito Santo ci conferma che noi siamo da Dio abbiamo letto nel verso 19 abbiamo la testimonianza nel nostro cuore a Dio sia la gloria e gli agli occhi di Dio esistono solo due famiglie figli di Dio e figli di Satana c'erano dei figli cosiddetti figli di Abramo in Giovanni capitolo 8 verso 39 contestavano Gesù il figlio di Dio nel dire nostro padre Abramo Gesù disse loro se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo leggiamo fino al verso 44 ora invece cercate di uccidermi io sono il figlio di Dio perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio Abramo non fece così voi fate le opere del padre vostro essi dunque gli dissero noi non siamo nati di fornicazione abbiamo un solo padre Dio Gesù disse loro se Dio fosse vostro padre mi amereste perché io sono proceduto e vengo da Dio infatti io non sono venuto da me ma è lui che mi ha mandato perché non comprendete il mio parlare perché non potete dare ascolto alla mia parola voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro lo volevano uccidere egli è stato omicida fin dal principio lui leggeva nei loro cuori che tentevano a volerlo uccidere perciò già vedeva che erano insieme per uccidere lui e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui quando dice il falso parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna i figli di Dio sono coloro che sono nati di nuovo che sono filtrati dal peccato perché Cristo è diventato peccato sulla croce e il filtro che noi attingiamo da Cristo è stato purificato dal peccato lo spirito santo di Dio rinnova la nostra mente la nostra vita ci fa nascere di nuovo infatti Gesù dice in Giovanni 3 3 che se non siamo nati di nuovo non possiamo vedere le cose del regno di Dio e nel verso 5 dice che se non siamo nati di acqua e di spirito cioè naturalmente e spiritualmente non possiamo entrare nel regno di Dio in verità in verità ti dico che se uno non è nato di acqua cioè nato già nella natura umana noi siamo nati nell'acqua nel grembo di nostra madre che stavamo nella sacca piena di acqua per nascere naturalmente e poi dobbiamo rinascere dallo spirito se no non possiamo entrare nel regno di Dio questi sono i figli di Dio quelli che hanno ricevuto Cristo nella loro vita come dice nel verso 12 del capitolo 1 di Giovanni e poi nel verso 13 dice ma tutti quelli che hanno ricevuto Cristo egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome che affidano la loro vita a Lui i quali non sono nati di sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma sono nati da Dio questi sono i figli di Dio nati da Dio e quelli che sono solo secondo il sangue sono figli del diavolo lo dice Gesù a quelli che professano di essere figli di Abramo nel capitolo 8 verso 39 loro erano figli di Abramo ma non erano figli di Dio nostro padre Abramo Gesù disse loro non è così nel verso 44 dice che voi siete figli del diavolo perché l'istinto è carnale non è spirituale voi fate quello che voleva fare il diavolo voi siete figli del diavolo che vostro padre volete fare i desideri del vostro padre il desiderio del diavolo era di uccidere Gesù e loro erano lì proprio perché desideravano di trovare una scusante come ucciderlo e Gesù dice lui è stato omicida fin dal principio perché già Caino uccise Abele e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui quando dice il falso parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna nati da Abramo nascere naturalmente siamo figli del diavolo nascere spiritualmente diventiamo figli di Dio perché Dio è spirito perciò i nati di nuovo non possono perseverare nel peccare perché la sensibilità spirituale ci porta a non poterlo fare perché sentiamo il rimorso quando sbagliamo sentiamo il peso del peccato e ci viene lo spirito santo che in noi ci fa sentire male quando pecchiamo sentiamo il peso di di sbagliato e meno male che c'è Cristo quando andiamo a lui e confessiamo dicendo perdonami lui ci lava col suo sangue ci purifica da ogni peccato e ci riempie dello spirito santo perché nel momento che il sangue di Cristo ci purifica e contiene lo spirito eterno di Dio perché Cristo è venuto da Dio il sangue purificatore il sangue del Dio figlio venuto in altra forma come uomo in mezzo a noi per pagare il prezzo del nostro peccato a Dio sia la gloria in primo Giovanni 2 12 a 14 leggiamo cosa dice figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno ragazzi vi ho scritto perché avete conosciuto il padre vi scrivo vi ho scritto vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio giovani vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno vi scrivo vi ho scritto non sa come trovare le parole questo apostolo per dirci mentre stiamo leggendo che ci ha scritto ci scrive ci incoraggia ci ripete guardate che voi che avete ricevuto Cristo avete la vita eterna nella vostra vita e avete vinto le forze del diavolo avete vinto le forze demoniache colui che in voi lo spirito santo è più forte di colui che nel mondo quando dice giovani ragazzi anziani padri non dice nella misura naturale ma secondo il grado di età che abbiamo spiritualmente vuole dire si indirizza a diversi gruppi nella chiesa secondo il proprio livello spirituale e ci incoraggia dicendo avete vinto avete superato giovane o anziano che tu sia uomo donna in Cristo siamo più che vincitori a Dio sia la gloria alleluia quando noi ci atteniamo e seguiamo così come gli dice lasciamo il mondo non desideriamo più l'Egitto e continuiamo a perseverare vediamo le promesse di Dio che si realizzano nella nostra vita le promesse qui è la promessa del cielo della vita eterna gloria sia resa a Dio si indirizza a diversi gruppi nella chiesa non so se tu sei appena salvata sei bambina sei ragazzo sei ragazza nella fede vuole dire ma anche se sei nata di nuovo nato di nuovo adesso mentre stiamo parlando già hai vinto il diavolo perché Cristo ha messo dentro di te il suo potere in Efesini capitolo 2 verso 2 leggiamo cosa dice che sei grande Signore ci fai sentire con tranquillità che il tuo potere è operante nella nostra vita i quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli e il verso 3 guardiamo insieme nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo il desiderio della nostra carne ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri ed eravamo per natura figli di Dio figli del diavolo come gli altri leggiamo il verso 4 ma Dio che ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amato verso 5 anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo e per grazia siamo stati salvati si indirizza a diversi gruppi nella Chiesa secondo il proprio livello spirituale ci incoraggia avete vinto avete superato avete vinto siete forti rileggiamo dal verso 12 al verso 15 quanto sei grande Signore in primo Giovanni 2 figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno ragazzi vi scrivo perché avete conosciuto il padre padre vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio giovani vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno e il verso 15 dice così non amate il mondo né le cose che sono nel mondo non il mondo fisico ma l'ordine spirituale invisibile tutto ciò che offre per farci opporre a Dio nei nostri ragionamenti rileggiamo questo verso 15 non amate il mondo né le cose che sono nel mondo se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui in secondo Corinzi ci spiega meglio questo concetto secondo Corinzi 10.4 non è il mondo fisico infatti le armi della nostra guerra non sono carnali ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze poiché demoliamo i ragionamenti il combattimento che fa Satana nelle nostre menti sono i pensieri le idee le speculazioni le discussioni la filosofia pensieri che si oppongono al piano di Dio alla volontà di Dio per svitarci dal restare stretti a Dio e alla sua parola noi dobbiamo reagire quando vengono pensieri che ci distolgono dobbiamo reagire non dobbiamo perdere le promesse stupidamente abbiamo quel bel esempio di Giosuè e Caleb in numeri 14 da 6 a 8 vediamo questi due uomini di fede che si oppongono di fronte a 3 milioni di persone restano loro due insieme a Mosè e a Daronne quattro persone dalla parte di Dio dalla parte di Dio non ha importanza se Dio è con noi se Dio è per noi chi sarà contro di noi? con Dio c'è sempre la maggioranza leggiamo questi due combattenti come si muovono e Giosuè figlio di Nunne e Caleb figlio di Jefunne che erano tra quelli che avevano esplorato il paese si stracciarono le vesti per dire ma che state dicendo e parlarono così a tutta la moltitudine dei figli di Israele il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono molto buono se il Signore ci è favorevole ci farà entrare in quel paese e ce lo darà è un paese dove scorrono il latte e il miele ecco come si combatte non è che presero la sciabola la spada il fucile con le parole la fede si esprime con le parole bisogna combattere quando si combatte per la fede non si combattono le persone si combattono le idee che vengono dal diavolo e si sostengono le parole che dice Dio quello che dice Dio è vero ciò che dice il diavolo è la nostra mente che ci mente è falso e noi dobbiamo stabilire anche il fratellastro di Gesù ci dice che combatteva Giuda che credette dopo la risurrezione di Cristo e si consacrò a Cristo nel capitolo 1 verso 3 dice che combatteva anche lui guardiamo come combatteva carissimi avrendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre per la fede che cos'è combattere per la fede per l'insieme della verità che riguarda la nostra salvezza nella dottrina della salvezza di ciò che dice la parola di Dio Signore aiutaci l'insieme della verità salvifica che è contenuta nella parola di Dio Giosuè e Caleb combattevano per la fede di ciò che Dio aveva detto che gli dava quel territorio loro combattevano nel verso 10 leggiamo del capitolo 14 allora tutta la comunità parlò di lapidarli ma la gloria del Signore apparve sulla tenta di convegno a tutti i figli di Israele ma Dio intervenne la risposta del popolo la lapidazione questo vuol dire combattere per la fede tre milioni di persone si opponevano loro due con Mosè e Caleb restavano saldi in ciò che Dio aveva detto quando quelli volevano avanzare un poco di più Dio intervenne potentemente se Dio è per noi chi sarà contro di noi se tu sei dalla parte di Dio coloro che ti circondano possono arrivare fin dove dice Dio non dove vogliono loro se Dio glielo permette e infatti qui leggiamo un'altra volta tre milioni sono tanti ma qui scende il Signore e dice il Signore disse a Mosè fino a quando disprezzerà questo mio questo popolo fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro succede pure a noi quante volte il Signore è intervenuto e certo il nemico ci viene sempre a scoraggiare ho detto prima della TV quando hanno aumentato in un mese di 20.000 euro al mese Signore grazie ho detto dopo un culto sentite da 30 e rotti mila euro siamo passati a 50.000 euro solo il digitale terrestre mensile ho detto beh non potevamo chiudere questa questa televisione abbiamo bisogno soltanto di 10 persone che mettano 2.000 euro in più al mese nel pomeriggio ho sentito una telefonata di un fratello che mi ha detto fratello io anziché mandarli tutti i mesi voglio contribuire per tre anni anticipato fai il calcolo per un anno e mezzo anticipato anziché mandare 2.000 euro ogni mese voglio anticipare un anno e mezzo così stai tranquillo sto tranquillo ma ci mancavano anche gli altri come spesso succede non è questa la risposta di Dio resto tutto il giorno a cercare da prelevare dai suoi conti per fare bonifici perché dopo due o tre giorni avessimo i soldi sul conto per non chiudere parole di vita mi viene da piangere ma Dio è fedele perciò noi non ci dobbiamo fermare a Dio sia la gloria e qui Dio provò anche l'orgoglio di Mosè nel verso 12 Dio disse a Mosè qualcosa di grande e Mosè restò con l'umiltà che aveva disse Dio a Mosè io questo popolo che è così lo colpirò con la peste e lo distruggerò ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso e si mise a Mosè anziché dire spavaldamente sì signore distruggilo e così sarà la mia eredità che sarà il tuo popolo non sarà più l'eredità di Abramo ma la mia ma se si mise a pregare non fare questo signore che diranno gli egiziani che non sei stato capace di portare la destinazione ti prego perdona perdona lo signore perdona perdona ma conduci ci portaci avanti e così dobbiamo fare noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri e proseguire andare avanti perché Dio è fedele gloria sia resa a Dio e si mise ad intercedere umile era e umile restò in primo Giovanni 2.15 dice così non amate il mondo il mondo non è il mondo fisico ma l'ordine spirituale invisibile tutto ciò che offre per fare opposizione a Dio nei nostri ragionamenti i pensieri le idee le speculazioni le discussioni la filosofia i pensieri che si oppongono alla parola di Dio per sviarci dal restare stretti a Dio e alla sua parola noi dobbiamo reagire Giosuè e Calem così reagivano Mosè e Daronne così reagivano anche quando Dio gli propose di fare un'altra cosa loro pregarono anziché dire sì Signore quando le scarpe ti vanno strette sorella prega il Signore quando la giacca ti va stretta che ti sembra che non ce la fai prega il Signore questi sono gli insegnamenti nella parola del Signore che troviamo e questi dobbiamo applicare perché Dio è fedele non dobbiamo desiderare di tornare in Egitto dobbiamo desiderare che si compiano le promesse di Dio nella nostra vita perché con Dio lo possiamo fare così diceva Giosuè e Calem nel verso 8 del capitolo 14 dei numeri quando sei grande Signore questi esempi ci servono a noi in questo tempo pure se il Signore ci è favorevole ci farà entrare in quel paese e ce lo darà è un paese dove scorrono il latte e il miele sorella se hai delle promesse da parte del Signore pigati a cercare il Signore che spiani la strada davanti a te ma tu devi avere la vittoria perché tu hai vinto il mondo quando sei nata di nuovo quando sei nato di nuovo fratello il peccato non ti signoreggerà più se tu cerchi Dio perché non puoi continuare a tornare indietro devi continuare ad andare avanti col Signore perché ti ha portato fin qui e hai visto anche tu tanti miracoli nella tua vita non li puoi sotterrare non li puoi dimenticare sono vivi nella tua coscienza perciò dobbiamo proseguire leggiamo il verso 16 che sei grande Signore primo Giovanni 2,16 perché tutto ciò che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita l'orgoglio non viene da Dio ma dal mondo nel sistema montano non c'è tutto ciò nel sistema montano non c'è niente che viene da Dio l'orgoglio della vita la loro sorgente montana e non divina e subito passa è roba momentanea sono dei miraggi sono dei sono illusioni ottiche che ci propone il diavolo mentre con Dio c'è certezza c'è eternità leggiamo nel verso 17 ma chi fa la volontà di Dio e il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno hai capito? noi ereditiamo il cielo perché la volontà di Dio ci porta nell'eternità e anche le promesse sulla terra si adempiranno in numeri 14 verso 9 dice così soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese non abbiate paura di Satana dei suoi eserciti perché ne faremo nostro pascolo l'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi non li temete in Deuteronomio 24 Dio aveva detto quando dovete affrontare situazioni di un certo calibro di una certa misura perché il Signore è il vostro Dio è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici per salvarvi Giosuè nel capitolo 1 verso 9 Dio gli dice all'entrata della terra promessa non te l'ho io comandato sii forte sorella fratello fammi di guardare in faccia sii forte e coraggioso sorella questa parola è per te oggi fratello dove sei alza la testa ascolta sii forte e coraggioso sii forte e coraggiosa sorella svegliati sii forte e coraggiosa continua a perseverare nel mantenere la posizione insieme con Dio leggiamo non ti spaventare non ti sgomentare perché il Signore il tuo Dio sarà con te dovunque ti trovi dovunque andrai dovunque ti muovi quando fai la sua volontà Dio non molla in numeri 13-30 dice così in scusami sì in numeri 13-30 dice così Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo continuava a combattere continuava ad incoraggiare il popolo ma era duro di orecchio era duro di udire ma in ebrei capitolo 11 verso 33 dice che molti i quali per fede conquistarono regni praticarono la giustizia ottennero l'adempimento di promesse chiusero le fauci dei leoni viene in mente Daniele che il re non dormì tutta la notte perché avevano messo Daniele nella fossa dei leoni la notte non dormì il re e lui dormiva tranquillo sopra il leone che gli faceva da cuscino quando andò la mattina aprì la bocca della fossa dei leoni lo chiamò Daniele e lui disse sì io re sono qua lo sapevo che tu saresti restato in vita perché il tuo Dio non ti poteva far morire così ingenuamente e Daniele rispose Dio ha mandato il suo angelo atturare la bocca del leone quando camminiamo con Dio regni pure noi dice così in primo Giovanni 5 13 dice così io ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna alleluia voi che credete nel nome del figlio di Dio Gesù egli ci partecipa alla sua natura divina e dice nel verso 11 e 12 leggiamolo insieme e la testimonianza è questa Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio Gesù Cristo chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio di Dio non ha la vita cioè la vita senza fine è in Cristo senza di Lui non c'è vita spirituale la parola di Dio chiarisce e toglie il dubbio noi dobbiamo cercare come dice Gesù come bambini di restare continuamente vicino al capezzolo della mamma per nutrirsi e per sentire il calore della madre così noi dobbiamo camminare la nostra vita di fede con una continua comunione con Cristo mentre Egli per lo Spirito Santo trasferisce la sua divina presenza e la sua divina potenza nella nostra vita per servirlo come si conviene a Santi mentre Dio ci dà la possibilità perché Egli è fedele e le sue promesse li realizzerà e se ti mantieni fedele al Signore se continui a perseverare mantenendo un filo di comunione con Lui man mano che cammini durante il percorso della tua vita la vita eterna è tua se perseveri in questo modo così come furono adempite le promesse di Giosuè e Caleb in una moltitudine che retrocedeva loro vissero il doppio della vita ed ebbero le promesse che gli erano state promesse Giosuè portò il popolo di Dio ad occupare la terra promessa e Caleb all'età di 85 anni conquistò 116 116 città fortificate a 85 anni 5 anni più di me cominciò e quando finì Signore aiutaci noi non dobbiamo retrocedere perché Dio è fedele e questa opera che è iniziato nella tua vita non la puoi buttare così al vento e darla in pasto al diavolo che ti tenta non lo pensare continua a mantenerti vicino al Signore alimentati attraverso la preghiera ed ubbidisci a quello che lui dice vedrai che camminerai giorno dopo giorno un giorno alla volta diventerai sempre più forte si fortifica la tua fede e potrai dire alle montagne che ti si presentano davanti con un poco di fede togliti perché io devo portare a destinazione l'opera del Signore e camminerai di vittoria in vittoria Dio sia la gloria e anche oggi il Signore ci ha parlato facciamo tesoro consacriamoci a Lui lasciamo le cose che non servono e seguiamo il Signore con tutto il cuore perché Lui è fedele alleluia lo vogliamo ringraziare preghiamo insieme Signore ti ringraziamo per esempi di fede che troviamo nella tua parola e per ammonimenti che tu ci dai perché molte volte Signore siamo tentati e quasi vogliamo ripetere alcune cose che facevamo in Egitto allontanali da noi Signore e facci guardare a te per continuare il nostro cammino insieme con te fissando lo sguardo su di te che cammineremo di vittoria in vittoria e in equilibrio perché tu ci proponi cose meravigliose e noi siamo attratti per poterle vedere nella nostra vita che si adempino Signore ti prego per la sorella per il fratello per coloro che siamo stati insieme per coloro che riascoltano la tua parola Spirito Santo di Dio investi la tua parola col tuo potere con l'unzione della tua presenza e dove arriva nei cuori fecondala perché possa produrre fede per camminare insieme con te Dio dell'invisibile Dio Onnipotente nostro Dio Gesù nostro Signore Salvatore e a te Spirito Santo che continui a far fruire la tua presenza nella nostra vita ed alimenti la nostra vita spirituale e ci fortifichi grazie per la tua parola grazie 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 per la sorella per il fratello che collaborano in questa opera Signore benedicili che lo Spirito Santo possa arricchirli di benedizioni e contribuire molteplici benedizioni fisiche materiali e spirituali Signore incoraggiaci a servirti meglio nel nome di Gesù te lo chiediamo Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org